allora vediamo come funziona il forex tester il forex tester è il simulatore di training che utilizziamo nella community è uno strumento formidabile ok davvero interessante costa poche centinaia di euro ma consente di mettere in opera un lavoro di ricerca e pianificazione molto simile a quello che svolge un grande fondo ma utilizzando uno strumento che è adatto al trade privato ok quando non esistevano questi software di simulazione perché ne esistono di molto più evoluti di questo questo diciamo è adatto all'uso del trade privato quando non esistevano i grandi fondi investivano tanti anni e anche tante risorse e team di persone per conoscere meglio i propri mercati di riferimento e mettere in opera poi delle gestioni più competitive no progettarle prima e poi metterle in opera oggi invece con questi software è stato possibile velocizzare enormemente l'apprendimento dei trader e anche elaborare più velocemente una serie di dati io adesso vi mostro come utilizzare il software e come poterlo utilizzare sia per velocizzare l'apprendimento con un metodo molto molto semplice e poi vi spiegherò come funziona il backtest quindi un sistema per fare pratica e testare le nostre strategie prima di arrivare al mercato reale in modo da risolvere gli errori applicativi che il trader commette sempre all'inizio molto prima di arrivare al mercato questo consente poi al trader di arrivare al mercato con qualcosa che già funziona in grado già di produrre dei risultati dal primo anno ok poi è sempre un lavoro di crescita si migliora sempre di più con il tempo ma iniziamo già con qualcosa che funziona bene perché il trader privato non può tollerare un investimento di 3-5 anni prima di vedere dei risultati questo è un tipo di attività alla portata di un grande fondo noi dobbiamo trovare soluzioni che ci consentono di velocizzare tutto questo processo pianificando comunque però ogni dettaglio necessario perché questo ci consente di ridurre il rischio e ridurre anche la complessità simulando adesso arriviamo al simulatore simulando si riesce a ridurre la complessità a ridurre il rischio il trader riesce ad esercitare un controllo sull'attività ok quindi è un'attività assolutamente necessaria se non pianifichiamo saremmo costretti il trader che non pianifica diventa costretto e costretto a operare molto di più al mercato per prendere di meno invece se pianifichiamo saremo in grado poi di operare al mercato di meno in modo molto più incisivo ok è un'attività assolutamente fondamentale ma ne ho parlato tanto insomma ne parlo ancora perché è veramente un po la base della nostra attività ecco questo è il nostro simulatore forex tester questa è la versione 5 loro mi hanno scritto anni fa sono partner della community da tanti anni e loro quando gli mandai le persone il primo anno loro poi mi scrissero per dire grazie che ci mandi tutte queste persone ma vorremmo ricorre uno scettitore percentuale sulle vendite sapete si usa insomma l'affiliazione su internet io gli dissi che non mi interessava questa cosa perché non fa parte degli obiettivi della community del progetto e quindi gli chiesi se potevano darci un link per riconoscere uno sconto agli utenti invece di dare a me la percentuale ho detto date lo sconto equivalente ai miei utenti in modo da facilitare l'uso del software e infatti così hanno fatto e c'è il link che nella community ve lo riporto anche nelle note di questo video che appunto vi consentirà di avere un po di sconto non uno sconto eccezionale insomma ma insomma un software che costa tipo 200 euro mi pare 50 euro di sconto se non è che ci cambia la vita insomma è sempre qualcosa di utile ok tenete conto inoltre che l'uso del software è possibile anche all'interno della community cioè noi abbiamo delle piattaforme condivise che diamo a quale diamo accesso gratuitamente agli utenti iscritti alla community quindi se tu sei un utente iscritto alla community puoi chiedere l'uso del software gratuitamente Sergio ha un calendario e assegna il software ai vari utenti che ne fanno richiesta tipo per una settimana due settimane è un'attività anche utile per iniziare a conoscere lo strumento magari prima di acquistarlo ecco va bene perché poi naturalmente fa comodo averlo a disposizione però all'inizio no bisogna anche capire insomma come funziona e quali sono i vantaggi adesso vediamo un attimo come funziona il software le funzioni principali e poi vi spiego come fare esercizio pratico e poi vi spiego come funziona il backtest allora vedete la piattaforma riporta qualcosa di molto simile alla piattaforma metatrader che utilizziamo per comunicare con il broker abbiamo però diciamo delle finestre qui su che nella piattaforma metatrader non ci sono ovvero la finestra per caricare i dati qui possiamo scegliere i nostri mercati di riferimento e vedere i dati che sono stati caricati io ho caricato dal 2010 fino al 2022 adesso a gennaio caricherò tutto l'anno 2023 ok per caricare i dati dobbiamo avere un abbonamento un abbonamento a flusso dati quindi si acquista il software e c'è anche un abbonamento io ho acquistato anni fa l'abbonamento lifetime che si paga una volta sola costa un po' di più ma dà accesso ai dati per sempre ok è anche utile magari fare l'abbonamento di un mese tanto i dati si aggiornano ci conviene aggiornarli uno o due volte l'anno non è un'attività che si fa tutti i giorni quindi possiamo anche ed è previsto insomma dall'azienda fare un anno un mese un abbonamento di un mese si caricano un po' tutti i dati e poi a fine anno si rifà un'altra volta un mese e si aggiornano i dati non c'è bisogno di restare abbonati tutto l'anno ok perché poi non ci sono cose che si possono fare in più a questo e qui iscrivendosi al flusso dati si ha accesso ai dati di numerosi broker io carico i dati principalmente di fxcm ed fxdd ok quindi una volta caricati i dati noi possiamo creare un progetto andiamo qui su un nuovo progetto per esempio test assegniamo un capitale 25.000 dollari ok si può anche cambiare la valuta ma va benissimo in dollari prendiamo il nostro mercato per esempio l'euro dollaro che sta qui lui ci dice guarda hai dati disponibili dal 2010 fino al 2022 dicembre va bene così vado avanti lui verifica di avere a disposizione i dati modifico il fuso orario e indico software di quale storico voglio disporre e di quantità di quanti dati mi servono per operare per fare le attività che a me servono e quindi si decide voglio partire dal 2018 faccio un esempio e lui da lì carica tutto lo storico e ci fa partire dal 2018 in poi per operare e fare i nostri test cliccando su create lui poi lavora un po' ci mette un po' di tempo e ci fa partire dal 2018 in poi per operare e fare i nostri test e avvia il progetto così come lo vedete cioè veramente questi sono i grafici che io ho configurato perché voi quando create un nuovo grafico ce l'avete vergine pulito così ok anche i colori li ho cambiati insomma potete farlo anche voi li risponete così come vi servono e iniziate a fare il vostro la vostra attività di testing fatto questo lavoro iniziamo a vedere come possiamo fare per velocizzare l'apprendimento e come poi funzionerà il backtest un'ultima cosa prima di iniziare ricordate che il software è molto interessante ma se utilizzato male diventa un'inutile perdita di tempo io quando ho iniziato a usarlo ho avviato degli esercizi di gruppo nei team di lavoro della community e gli utenti mi restituivano queste simulazioni che erano secondo scopo dell'attività fare una simulazione e fare emergere le spese e le problematiche per poter discutere di tutto quello che bisogna fare per superare queste spese problematiche e gli utenti mi restituivano simulazioni perfette dove si guadagnava soltanto e io insomma mi sono sempre affannato a spiegare che se il simulatore viene utilizzato in quel modo è un inutile perdita di tempo perché lo scopo non è naturalmente far profitto perché qui è una simulazione lo scopo è trovare tutti quei contesti dove noi possiamo avere delle difficoltà e fare esercizio pratico per imparare a superare quelle difficoltà con un rischio limitato perché i profitti si trovano appena oltre le spese e le problematiche di tutti i giorni quindi il simulatore serve per fare pratica con tutti quei contesti che presentano spese problematiche in modo da diventare trader capaci nel superare tutto questo per il mercato reale per raggiungere i profitti che si trovano appena oltre tutto questo capite? quindi lo scopo del simulatore è questo non fare profitto o fare i fenomeni insomma ma piuttosto lavorare su ciò che può presentare delle problematiche poi a mercato reale per trovare nuove soluzioni o per imparare a mettere in opera le soluzioni che io suggerisco lo scopo della community è proprio condividere queste informazioni si entra nei team di lavoro, si studia, si entra nei team di lavoro e discutiamo di tutto questo in modo da consentire ai trader di avere quelle soluzioni che gli servono per superare le spese e le problematiche capito? perché i profitti sono appena oltre tutto questo quindi vediamo come si fa l'esercizio pratico esercizio pratico si fa dividendo il lavoro che normalmente svolgiamo al mercato reale prima ci dedichiamo a identificare un campione di opportunità presenti al mercato compatibili con il piano questa per esempio è una simulazione che riguarda il metodo cash ok? quindi cosa ho fatto? ho definito un campione di opportunità osservando come il mercato si è sviluppato e ho segnato queste opportunità sui grafici vedete? naturalmente opportunità infruttuose che presentano problematiche e anche qualche opportunità che generano profitto genera profitto ok? perché anche quelle poi vanno studiate per quello che riguarda la fase iniziale cioè come il mercato si distanzia e come dobbiamo lavorare per ridurre il rischio capito? quindi segno il mio campione di opportunità su una base dati di 3-5 anni una volta che ho definito la mia base dati torno indietro ok? perché questo è il vantaggio del simulatore io posso lavorare sui dati e quindi a questo punto no questa non c'entra niente a questo punto una volta individuate le opportunità ci vado a lavorare su e quindi vado all'opportunità alla prima opportunità compatibile che ho selezionato eccola vedete? questa è un'opportunità compatibile con il metodo cache studio la congestione che si è sviluppata durante la notte avendole già identificate filtrate tutto quanto diventa poi facile arrivare su quel singolo evento per studiarne le caratteristiche le caratteristiche diciamo strategiche di questo evento quali sono? il contesto è valido perché ha una barra di trend sviluppa una barra di trend giornaliera e compresi di profitto ridotto e questa mattina la congestione è in misura a meno di 25 pip quindi è perfettamente compatibile con il metodo cache il lavoro non è finito è appena iniziato è finito il lavoro previsionale adesso inizia il lavoro gestionale e il simulatore ci aiuta anche in questo sia a migliorare la capacità previsionale osservando gli eventi sia lavorando poi da un punto di vista gestionale noi dobbiamo prima imparare a trovare gli eventi per poter imparare a trovarli dobbiamo osservarli se io mi dico vai a cercare un elefante ma se tu l'elefante non l'hai mai visto come lo vai a cercare? e quindi io devo mostrarti prima cosa devi cercare poi dopo imparerai a rilevare imparerai a trovare quel tipo di schema quel tipo di opportunità durante lo sviluppo del mercato al mercato reale sono due attività che dobbiamo separare perché una persona che inizia non riesce a trovare le opportunità durante lo sviluppo del mercato perché è un'attività più complicata ci dobbiamo arrivare per gradi e il simulatore ci aiuta ad arrivare per gradi a questa attività molto importante quindi fatto questo sono le 7 del mattino possiamo mettere un setup ok? il setup si mette sotto i minimi delle barre più significative dello schema con lo stop fisso a 25 pip per quello che riguarda il metodo cache ma adesso non ci dilunghiamo su come funziona il metodo cache perché faremo delle live su questo dove andrò a simulare e vi spiegherò un po' i dettagli va bene? è un'attività che facciamo nella community c'è un team di ricerca che si chiama ricerca e pianificazione dove facciamo solo questo ogni settimana una sessione di 20 minuti 25 minuti dove simuliamo le opportunità e discutiamo dei dettagli va bene? detto questo quindi andiamo a gestire l'opportunità una volta che l'ho individuata ho capito che è compatibile ci inserisco l'ordine e attivo il mercato a questo punto io vedrò oscillare il mercato come se fosse mercato reale è molto interessante veramente uno strumento formidabile qui posso velocizzare lo sviluppo del mercato rallentarlo sia attraverso il potenziometro sia attraverso le barre io qui se faccio scortere le barre da 5 minuti vedete che il mercato va molto più veloce ma in questa fase è bene che vada lento perché io devo osservare le oscillazioni devo capire che se mi prendo un margine sufficiente evito una problematica di questo tipo c'è una piccola falsa rottura che può prendermi e sviluppare subito una spesa per me troppo elevata posso a quel punto nei tempi morti anche mettere in pausa clicco sul time frame di riferimento e portare avanti le barre manualmente vedete è utile osservare le oscillazioni ma quando per esempio gestiamo le opportunità di trend following i tempi morti sono più lunghi è quindi uno strumento utile vedete qui io posso osservare la posizione aperta che scorre come se fosse il mercato reale ok a quel punto io posso ragionare sulle cose posso mettere in pausa posso riavviare posso tornare indietro posso fare quello che voglio per fare l'esercizio pratico è tutto permesso purché la mia attenzione sia rivolta a quei dettagli che mi servono per superare le problematiche ok magari gestisco un'opportunità in un modo e vedo che il risultato non è soddisfacente il rischio è troppo elevato torno indietro e scopro sperimento nuove soluzioni poi facendo parte dei team di lavoro della community sarò stesso io a dirvi guarda la soluzione migliore è quella così risolvi il problema e vai avanti più velocemente ok ma io tutte le soluzioni che ho trovato le ho trovate in questo modo sia osservando poi al mercato reale che è un processo più lungo ma poi quando è arrivato il software questo software ho potuto velocizzare anche io le mie attività dedicandomi in questo modo e quindi osserviamo come il mercato si sviluppa e da qui capiamo come possiamo generare una piccola spesa un profitto compatibile e così via adesso è inutile portarla avanti la posizione a un certo punto quando raggiunge un obiettivo di profitto io posso chiuderla posso modificarla posso fare quello che voglio posso anche chiudere parte della posizione tutte le attività che poi vi posso spiegare come fare e qui poi vediamo lo storico delle varie attività queste sono un po' di simulazioni che ho fatto nella community con gli utenti anche per spiegare come devono costruire uno storico uno storico realistico che deve presentare spese e problematiche e anche qualche profitto naturalmente ma il focus deve essere sulle spese e sulle problematiche perché dobbiamo trovare soluzioni per superarle e questo diciamo è in estrema sintesi il metodo per fare esercizio pratico con il simulatore poi c'è il sistema per fare il backtest il metodo per fare il backtest il backtest si fa su tre livelli e precede un'attività che precede l'attività che svolgiamo poi effettivamente a mercato reale ok il backtest 1.0 si fa facendo scorrere il mercato senza portare avanti le barre manualmente cioè io devo osservare le oscillazioni di mercato e sto lì a valutare ogni condizione ogni dato che emerge è un'attività più lunga le simulazioni veloci selezionando prima le opportunità si svolgono in genere in un anno un anno di attività si svolge in circa un'ora mentre il backtest può richiedere per un anno anche 4-5 sessioni da un'ora ma quelle 4-5 sessioni di un'ora mi fanno acquisire anni di esperienza nell'osservazione delle opportunità nella gestione delle problematiche e in questo modo vedete che con il backtest 1.0 emergeranno una serie di problematiche errori applicativi che il trader commette che devono emergere in questa fase così noi abbiamo la possibilità di risolverli prima di arrivare al mercato reale poi il backtest 2.0 sarà un altro backtest sempre su 3-5 anni dove di nuovo il trader dopo aver capito tante cose ripete le simulazioni a distanza di una settimana o due settimane e nuovamente va a ricercare le opportunità in genere gli utenti si meravigliano perché con l'1.0 trovano delle opportunità con il 2.0 magari qualche opportunità gli sfugge oppure ne trovano di nuove perché da un punto di vista previsionale se studiamo e ristudiamo la stessa base dati questo non significa che saremo più competitivi cioè quando osserviamo una base dati così vasta è difficile ricordarsi delle opportunità e dei dettagli quindi comunque si riparte sempre da zero però si riparte da zero con una capacità diciamo previsionale migliore quindi riusciamo a scartare magari ciò che non avevamo scartato precedentemente o troviamo qualcosa che è veramente valido che magari ci ha sfuggito in precedenza è un'attività che dura poche settimane fino alla fine ma ci consente poi di diventare trader migliori molto prima di arrivare all'attività mercatoriale a quel punto sarete in grado di operare su meno eventi per essere molto più incisivi al mercato ok spero di non essere stato diciamo di non aver fatto una sessione troppo complessa perché naturalmente è un argomento tecnico ma se prestate attenzione all'uso del software sarete veramente in grado di migliorare sensibilmente la vostra attività va bene buon lavoro e a presto grazie a tutti Grazie a tutti.